cari amici il governo continua a rassicurare a dire che va tutto bene che la situazione è sotto controllo insomma il governo tira dritto tira avanti come se nulla fosse nonostante per esempio il 18 di febbraio cioè appena tre giorni prima che scoppiassero i primi focolai nel nord italia il vice ministro della salute proclamava coronavirus il vice ministro sileri il virus in italia non c'è noi più prudenti degli altri 18 febbraio 2020 ad oggi il virus in italia non circola in futuro circolerà le misure approntate per ridurre i flussi riducono le probabilità al minimo può accadere ma noi abbiamo preso misure molto più forti degli altri pierpaolo sileri vice ministro della salute oggi abbiamo 230 casi e purtroppo sette morti anche se bisogna sottolineare per evitare allarmismi che le sette persone decedute purtroppo erano persone anziane avanti con gli anni e avevano dei problemi di salute pregressi comunque in qualsiasi caso in qualsiasi caso in un paese normale dopo aver dichiarato quello che ne ho dichiarato e dopo quello che è successo il ministro il vice ministro della salute si sarebbero dimessi all'istante e se non lo avessero fatto sarebbero state le proteste dei cittadini che li avrebbero indotti a rassegnare le dimissioni invece qui da noi niente no speranza va avanti tranquillamente come se nulla fosse nonostante pensate che perfino il sindacato autonomo dei medici italiani ne abbia chiesto le dimissioni comunicato stampa emergenza coronavirus governo impreparato roberto speranza si dimetta roma 23 febbraio 2020 troppi ritardi e soluzioni improvvisate il ministro della salute roberto speranza dovrebbe dimettersi è la dura presa di posizione del presidente nazionale dello snami angelo testa in regioni come lombardia veneto e piemonte dove la diffusione del coronavirus sta crescendo ora dopo ora il governo non è riuscito a predisporre un efficace sistema di prevenzione e tentenna nel proseguo quotidiano la notizia del primo contagio risale a diversi giorni fa e si doveva fare di più per prevenire la diffusione come snami avevamo già allertato la politica su come fossero fondamentali i presidi sanitari sul territorio soprattutto le dotazioni tecnologiche per gli operatori lasciati da soli a fronteggiare un'emergenza che rischia di diventare ancora più seria ci mandano a combattere la guerra con le scarpe di cartone continua il leader dello snami perché alle richieste minimali di dotazioni come le mascherine certificate di tipo ffp 3 en 149 nr o similari per i medici di famiglia continuità assistenziale 118 urgenza emergenza e medicina penitenziaria al momento non c'è stata alcuna risposta abbiamo consigliato di utilizzare da subito parte dei 235 milioni di euro stanziati per le dotazioni tecnologiche per gli studi dei medici di famiglia per acquisire presidi di tutela per la medicina generale in questa emergenza sanitaria nazionale e mondiale che si sta espandendo a macchia d'olio ministro speranza su quanto richiesto c'è un silenzio assordante che fa eco in tutta italia e invece no restano tutti al loro posto che poi la cosa veramente grave è che a gestire questa emergenza ma chi abbiamo conte che è un laureato in legge poi c'è speranza il ministro dell'economia e de micheli ministro delle infrastrutture che invece sono laureati in scienze politiche beh però fortunatamente abbiamo il capo della protezione civile che invece è laureato in economia insomma un revisore dei conti vi sentite o no in buone mani vi rendete conto e nonostante i fatti abbiano smentito categoricamente le affermazioni di questi signori nulla li schioda dalle loro poltrone e nulla li fa vergognare della loro inadeguatezza e questo nonostante perfino l'oms l'organizzazione mondiale della sanità abbia sottolineato gli errori italiani l'italia è un caso da manuale in cui una o più persone vengono contagiate da chi arriva da un luogo di epidemia e poi ci sono dei contagiati secondari con lo stesso tempo di incubazione paghiamo il fatto di non aver messo in quarantena da subito gli sbarcati dalla cina abbiamo chiuso i voli una decisione che non ha base scientifica e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località inoltre quando vengono contagiati i medici significa che non si sono messe in campo le pratiche adatte oltre al fatto che il virus è molto contagioso francia germania e regno unito seguendo l'oms non hanno bloccato i voli diretti e hanno messo in antena i soggetti a rischio inoltre hanno una catena di comando diretta mentre da noi le realtà locali vanno in ordine sparso ricciardi aggiunge che sorprendentemente il coronavirus non colpirebbe i bambini e comunque consiglia alle persone di evitare i luoghi affollati per almeno due settimane insomma nonostante tutto questo il governo continua ad auto celebrarsi e ad occupare anche massicciamente i media per tranquillizzare tutti e per continuare a dire che è tutto sotto controllo peccato solo che un infermiere di codogno dell'ospedale di codogno abbia smentito categoricamente che sia tutto sotto controllo in alcuni ospedali manca anche il minimo necessario soprattutto le mascherine quelle mascherine che gli stessi medici di famiglia per esempio non utilizzavano almeno fino a pochi giorni fa e infatti purtroppo ci sono già diversi medici contagiati mentre il direttore dell'oms avverte dobbiamo prepararci per una potenziale pandemia gli improvvisi aumenti dei casi in italia iran e corea del sud sono profondamente preoccupanti anche il direttore del dipartimento di prevenzione della asl toscana critica la mancanza di controlli e soprattutto il non aver imposto la quarantena obbligatoria alle persone che provenivano dalle zone a rischio e fa notare appunto che una persona che è in quarantena domiciliare volontaria siccome non c'è nessuno che lo controlla volendo può tranquillamente uscire andare al bar andare a prendersi un pezzo di pane fare la spesa insomma questo e conclude dicendo che secondo lui sarebbe opportuno imporre la quarantena per le persone che provengono da zone a rischio lungo tutte le nostre frontiere comprese le nostre frontiere europee tutto sotto controllo sarà ma per esempio in questi giorni un nostro connazionale è partito da shanghai dove è stato sottoposto a ben quattro controlli sanitari prima di poter prendere l'aereo e poi è atterrato a dubai dove doveva poi imbarcarsi per l'italia ma prima di potersi imbarcare anche a dubai ha dovuto sottoporsi ad un esame sanitario e poi si è imbarcato per l'italia ed una volta atterrato in italia invece una volta atterrato in italia non ci sono controlli se non il passaggio attraverso una sorta di scanner termico non c'è nessuno a misurargli la febbre né a chiedergli se sia arrivato dalla cina il volo atterra in italia mi aspettavo un controllo massimo e invece no zero mostro il mio passaporto e dentro tranquillo e sereno recupero la mia valigia e sono in italia giusto per fare un paragone con la romania dove per esempio stanno già da giorni disinfettando disinfettando gli aeroporti anche se in romania non c'è nemmeno un caso di coronavirus vi leggo adesso un messaggio che mi ha inviato francesco pedrazzini dalla romania chiamato dalla polizia una pattuglia mi ha aspettato fuori casa mi è corso un brivido quando mi han chiesto sulla porta signor pedrazzini e lei sì ho risposto venga in caserma per comunicazioni importanti se vuole la accompagniamo noi ho preso invece la mia macchina e li ho seguiti durante il breve percorso un chilometro da casa mia mi chiedevo cosa diavolo avessero voluto da me qualche azienda mia che ha combinato qualcosa qualche mio collaboratore inquisito boh e invece era per interrogarmi quando è stata l'ultima volta che sono stato in italia dove ho abitato eccetera 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 tutto per il coronavirus alla fine mi hanno avvertito che allorquando lasciassi la romania in uscita non avrei problemi ma al ritorno dovrei essere messo in quarantena per 14 giorni ma dove chiedo chiuso a casa mia a no in una struttura sanitaria apposita a casa potrebbe trasmettere il virus ai vicini non si può queste misure sono rivolte solo ai cittadini italiani e ai romeni che tornano in patria dall'italia e solo dall'italia morale a causa di un governo di farabutti a roma chissà quando potrò tornare in italia in generale lavorando qui poi al ritorno sarei 14 giorni isolato comunque lasciamo da parte l'inadeguatezza l'impreparazione del governo e concentriamoci un attimo invece su quello che dicono molti medici e soprattutto su quello che dice l'oms il coronavirus avrebbe un tasso di mortalità basso ma sarebbe abbastanza facilmente trasmissibile e diciamo non ci sarebbe un gran pericolo il pericolo di complicazioni in una persona sana aumenterebbe con l'aumentare dell'età quindi sono più esposte a rischi di complicazioni le persone più anziane inoltre il coronavirus in alcune persone non darebbe alcun sintomo in alcune persone darebbe dei sintomi ma molto lievi in altre persone invece darebbe dei sintomi anche molto gravi comunque ci sono molti medici che sminuiscono il fenomeno parlano di allarme totalmente infondato e addirittura dicono che alla fine il coronavirus non è niente di più di una o forse leggermente di più insomma lo paragonano comunque ad una semplice influenza a me sembra una follia si è scambiata una infezione appena più seria di un influenza per una pandemia letale non è così durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno per coronavirus 1 vi prego abbassate i toni serena domenica bene allora se questa dottoressa ha ragione se parliamo di qualcosa che un pochino più forte di una semplice influenza bene allora perché hanno bloccato tutto perché in cina sta succedendo quello che sta succedendo io non ho mai visto per una semplice influenza bloccare interi paesi mettere in quarantena decine di migliaia di persone fare i blocchi stradali non ho mai visto in ambulanze speciali operatori sanitari con delle attrezzature che sembrano usciti in un film di fantascienza tutti occhialini mascherine guanti eccetera qualcuno mi sa rispondere no perché delle due l'una o il coronavirus non è niente di più leggermente di più di una semplice influenza e allora le misure che si stanno adottando in tutto il mondo sono assolutamente esagerate oppure il coronavirus è pericoloso e quindi anche tra i medici c'è un po di confusione ma infatti non possiamo non non notare no che fino a ieri i medici erano assolutamente convinti che il coronavirus non ci fosse in italia tanto che andavano in giro senza protezioni tanto che non hanno riconosciuto dei malati conclamati di coronavirus l'anno li hanno riconosciuti con estremo ritardo nel frattempo queste persone sono state in un reparto normale di ospedale e a dimostrazione di questo purtroppo ci sono già diversi operatori sanitari e medici contagiati infine prima di salutarvi mi segnalano che i dipendenti della dusman cioè il personale che si occupa di fare le pulizie a bordo dei treni freccia rossa a questo personale sono state impartite delle istruzioni di pulizia e disinfezione estremamente rigide e scrupolose e al personale sono state fornite anche le mascherine peccato solo che gli è stato detto che non le devono indossare a meno che sul treno non sia rilevato un passeggero sospetto e comunque solo dopo essere stati avvisati dal capo treno e questo presumibilmente probabilmente per non allarmare per non spaventare per non allarmare per non spaventare per non disturbare i passeggeri dei treni freccia rossa mi segnalano che il personale è preoccupato per diversi motivi anche perché banalmente devono per esempio portarsi le divise a casa loro e pulirle a casa loro e ora dal momento che questo queste persone svolgono un lavoro per cui utilizzano per esempio dei prodotti chimici e comunque si occupano di pulire anche i bagni beh io credo che degli strumenti di protezione dovrebbero essergli forniti ordinariamente questo a prescindere insomma queste persone dovrebbero ricevere a prescindere le mascherine e avere anche l'autorizzazione ad utilizzarle e il personale è preoccupato no perché dice no per esempio no siccome loro si spostano avanti e indietro per le carrozze per tutto il treno dice magari può capitare di passare vicino ad un passeggero che magari è affetto da coronavirus questo per esempio star notici e loro gli passano vicino senza mascherina dicono magari potremmo restare contagiati ora dal momento che il personale che lavora a bordo dei treni purtroppo è tra le categorie più esposte ai rischi di contagio io mi domando ma non sarebbe il caso di fornire le mascherine a tutto questo personale ed autorizzare anche autorizzare il personale ad utilizzare le mascherine almeno almeno chi vuole utilizzare a utilizzarle dagli il permesso di utilizzarle un saluto dal vostro matteo di micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti